Ciao ragazzi e benvenuti alla recensione del microfono FIFINE K678, un microfono davvero interessante ma partiamo prima con l'unboxing. Vi arriverà questa confezione, molto bella in cartone, che aprendo il coperchio troveremo il manuale di istruzioni, una protezione in gomma piuma e all'interno vediamo un bel cavetto USB per collegarlo al PC, molto lungo, penso 1,70 m, e molto spesso di ottima qualità, con anche un controllo del rumore. Dopodiché troviamo il nostro microfono con già installato il suo piedistallo. Questo è il nostro microfono e subito estraendo il microfono si sente che è completamente metallo, sia il microfono sia la base, che è davvero resistente e anche molto pesante. Ovviamente per fermarlo basta avvitare queste viti laterali e rimarrà quindi in posizione. E andiamo a vedere subito alcune caratteristiche. Intanto qua davanti c'è un tastino per mutarlo in qualsiasi momento e dietro abbiamo due levette, una per regolare il volume del microfono, chiamato anche gain, ossia a che volume prenderà la vostra voce in ingresso. Più vicini siete, più lo abbassate e più lontani siete, più lo alzate. E il volume in cuffia, infatti questo a differenza di molti microfoni ha qui sotto una porta jack nella quale potete collegare qualsiasi tipo di cuffie o auricolari per ascoltare in tempo reale la voce che viene acquisita dal vostro microfono. Andiamo quindi subito a collegarlo e provarlo. Per collegarlo ovviamente è molto semplice, questo connettore va nella parte inferiore del microfono e l'altro capo USB nella USB del vostro pc. Ed eccoci qui con la registrazione del nostro microfono. Come vedete ho anche collegato le cuffie per sentire in tempo reale la mia voce insieme a voi nel microfono. Quindi se andate a fare canto o musica sentirete direttamente in tempo reale senza ritardo la voce che acquisisce il vostro microfono. Dimenticavo di dirvi che in confezione c'è anche questo bellissimo adattatore che vi serve se volete appendere il microfono ad un'asta al posto di utilizzare questo supporto originale. Questa è la voce ovviamente senza nessun tipo di filtro o equalizzatore che sentite nel microfono. È la voce che acquisisce appena collegate la USB al computer, quindi così senza nessun effetto. E già ascoltandolo posso dire che ha una buona qualità. Stiamo comunque parlando di microfono economico, quindi non ci aspettiamo performance di microfoni di altissima qualità. Ma nonostante questo sento due cose principali. Una che c'è poco rumore di fondo, nonostante io abbia il mio pc con un sacco di venture qua di fianco, lui prende davvero poco rumore esterni. Quindi è un ottimo microfono con un'ottima cardioide. Infatti lui va a prendere la voce solo nella parte anteriore del microfono. Se parlo nella parte posteriore mi sentite poco e male. E inoltre grazie alla regolazione del gain posteriore posso regolare il microfono al meglio in base se sono vicino. O alzando il gain, vedete che se mi allontano mi sentite male, ma se alzo il gain mi sentite molto meglio. Per avere la massima performance del microfono ed acquisire minori rumori esterni possibili, il mio consiglio è stare più vicino al microfono che si può e tenere il volume del microfono, questo che regolate nella parte posteriore, al minimo. Così avrete una voce chiara, naturale e con pochi rumori di fondo. Inoltre se siete in una stanza senza una buona acustica non andrà a prendere tutto l'eco o ne prenderà il meno possibile. Come qualità generale sono molto soddisfatto del microfono, come vi ho detto tutti i materiali sono molto molto buoni e anche bello da vedere. Ora ve l'ho messo qui in alto giusto che possiate vederlo anche voi. Ha un'asta di supporto molto bella, forse anche troppo pesante in base al microfono in sé, però è ottima per regolare il microfono al meglio. Le due viti ai lati sono di buona fattura, tengono molto bene il microfono. Una volta che il microfono è acceso, qui davanti vedete un led verde e se lo andate a cliccare diventa rosso, significa che siete mutati e nessuno vi sentirà. Le dimensioni del microfono sono molto 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 piccole, quindi se dovete trasportarlo, grazie anche al fatto che si piega, diventa davvero di misura contenuta. Per quanto riguarda la qualità audio, come state sentendo per me è ottima, però la qualità audio è anche molto soggettiva. Detto ciò lascio a voi tutti i giudizi personali, tutti i link ovviamente sono in descrizione. Io sono Lorenzo e noi ci vediamo presto in una nuova recensione.